Baresi per Serena, poi Ferri, Breme, Serena che approfitta di un disimpegno sbagliato di Anderson per impossessarsi ancora del pallone, l'ho dato a Berti, poi Matteoli, il cross immediato di Matteoli, ancora Serena di testa e segna il gol del momentaneo vantaggio dell'Inter. Inter, Serena al trentacinquesimo del secondo tempo ha portato in vantaggio l'Inter, Inter 1, Malmò 0, rivediamo l'azione, il cross di Matteoli, il primo intervento di testa e di Bergomi e poi il secondo di Serena che accorreva dalla destra, sorpresa nettamente la difesa del Malmò. Ancora una ripetizione, la prima deviazione di testa è di Berti, il pallone rimbalza addirittura in terra, non c'è nessun difensore svedese da quella parte, ne approfitta Serena che batte di testa a rete. L'Inter dunque in vantaggio ha... ... ... ... ... ... ...